Per chiedezza di informazione vuol dire che lunedì saremo ospiti all'infedele e ci andrà Valentina a parlare per noi. Sta decisa nelle opportunità e ci vuole partecipare. Sopremmo venire al presidio questa tutta, organizziamo una visione collettiva al presidio. Quindi facciamo almeno due votazioni per chi ha dovuto decidere qualcosa. Bisogna decidere, il 27 fa parte di un cammino delle tre manifestazioni nazionali. Nord, centro e sud. Nord, centro e sud, 27, 6 marzo e 13 marzo. Votazione. Ok. Dopo questa votazione, qualsiasi occasione di comunicazione verso l'esterno ci venga proposta, Allora, la linea del popolo di Roma è che la manifestazione del 27 febbraio è all'interno di questo trittico di comunicazione casale. Esatto. Poi io vorrei che anche l'appello che tanti luti e dussi e di Achei venga condiviso dall'assemblea. Sono 20 righe. E quello però non fanno. Non da inventare. Sì o no? Sì o no? Sì. Riscriveteci. Lo legge. Lo legge. Lo legge. Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai.